quando sono con i miei amici in macchina sono sempre un po ma ma il suon da bene che parlo ma chi si chi è? come chi è? questo è grandissimo Biaggiantonacci? uno dei grandi della musica italiana ma tu fai feste di piazza, sagra, se cosa c'è ma quali feste di piazza? lui fa concerti in tutto il mondo ma non so mai se tu se ti permetti io senti la musica degli artisti che fanno concerti in tutto il mondo e scusa tu che musica ascolti? ma io sono più portato per il rock, jazz, blues sai tutte queste musica un po particolari questi strunzo, questi terrazzati che sento tu quasi cafone certo poi quando suono solo mi sono bella e provocando viccioli stasera la più bella tu sarai per me Oh 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 la fe che fa? ho diventato il telefono ma allora sei per che la coppia comunque tu eri quello della musica jazz, la musica rock eh si perché ma vedetene la puma è la radio che fa, la radio che fa... Visto che bella è provocante vicini, stasera la più bella tu sarai per me.